Graziano Siotto, autore del Redentore della Sardegna, romanzo teatrale che ieri è stato presentato nel giardino della sezione sala della biblioteca Assata in un dialogo con Nelia De Giovanni. Un romanzo che racconta una storia vera, quella della costruzione e posizionamento sul monte Ortobene della statua del Redentore. Un evento importantissimo non solo per la città di Nuro ma per l'intera Sardegna. Sì, già dal titolo appunto il Redentore della Sardegna si individua quella sua non località ma appunto globalizzazione dell'evento stesso che fa parte di un più ampio evento nazionale di posizionamento di 20 statue in tutte le regioni italiane. Tra cui appunto è stata scelta per la Sardegna stessa la città di Nuro. Una storia diciamo così vera e quanto più autentica anche supportata dalle inedite ricerche e manoscritti emersi dagli erediglieraci di Trento che sono proprio i nipoti dello scultore del nostro, fra virgolette, nostro Redentore di Nuro e della Sardegna dai quali sono emerse notizie assolutamente sorprendenti. Una storia importante che verrà messa in scena a breve. Sì, noi stiamo lavorando per avviare una campagna di crowdfunding online per portare in scena diciamo così tutto il romanzo teatrale con la prima Nuro nell'agosto 2019 in occasione del Redentore ma poi anche toccando le città di Trento, Napoli, Roma e Polistena in Calabria.